PR? Ok, ed è il nostro Lorenzo, eccoci vai l'applauso solo per l'appigliamento, e il nostro mitico Giacomino ragazzi, preparate macchine fotografiche e videocamere, siete pronti? Seri? Sicuri? Vai con il PR, prego Giupi! Grazie! Grazie a tutti. 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 Invito tutti, 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 tutti i bambini che hanno fatto parte dello spettacolo di questa sera. Attenzione perché subito dopo abbiamo una sorpresa per voi. Allora, tutti i bambini che hanno fatto parte della serata dello spettacolo miniclub possono raggiungermi sul palco. Allora, ci siamo? Grazie a tutti. Allora, 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 tutti. Allora.